Pensiero indistinto. Che cos'è l'ectoplasma? Commento. L'ectoplasma è alla base dei fenomeni di materializzazione e di trasfigurazione, anche se non sempre questi fenomeni possono essere seguiti nella loro formazione fin dalla loro origine ectoplasmica. All'inizio del contatto organizzato con i piani superiori di esistenza, le materializzazioni parziali di mani si vedevano spesso scaturire da masse in formi di vario aspetto, come se da un pensiero indistinto venisse fuori un pensiero sempre più preciso, fino a materializzare un'idea definitivamente esatta. Grazie. 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 Grazie.